Stiamo andando a Cortina d'Ampeso per un viaggio di una settimana all'Occermo in un hotel chiamato Hotel Abra Cortina d'Ampeso. È molto alla moda e semplice. La posizione è molto centralizzata. Questa città ha un splendido scenario di montaggio, perfetto per schiare in inverno. Durante la settimana schermo e esploreremo la città. Ci sono molti laghi nella zona. Per i ristoranti in cui andremo, il restaurante Visietto di Cortina, Il Ponte, La Perla, sono tutti luoghi autentici, locali. Questa è una cittadina piccola e tranquilla. È il posto perfetto per esplorare Fiori. Grazie.